Un protocollo d'intesa siglato da Regione Abruzzo, Università degli Studi di Teramo e Comune di Lanciano per l'attivazione del corso di laurea in diritto dell'ambiente ed energia. La razio, formare figure professionali per raggiungere quegli obiettivi strategici, nobili, ambientali che la comunità europea richiede su tutti, ridurre del 55% l'emissione di CO2 rispetto al 1990. Gli assessori Nicola Campitelli e Pietro Quaresimale. Noi ci crediamo e per questo come Regione nel bilancio pluriennale 23-25 abbiamo assicurato quindi un budget importante 900 mila euro per i tre anni proprio per sostenere l'avvio di questo corso di laurea che ripeto che fa della Regione Abruzzo un punto di riferimento a livello nazionale. Finalmente in realtà in Abruzzo ci sarà questa istruzione d'alta formazione per formare degli specialisti dell'ambiente in questo momento di transizione affinché possano dare delle cognizioni a tutti i settori che riguardano l'ambiente, l'energia. Sicuramente è una grande opportunità per tutto il territorio. Si parte con una triennale ma si pensa già agli sbocchi successivi. A Teramo c'è già un master che riguarda questo settore, un punto di arrivo importante ma nel contempo anche di partenza che rilancia la cultura, la formazione e l'economia abruzzese. Il rettore dell'Università di Teramo Dino Mastrocola e il sindaco di Lanciano Filippo Paolini. Crescono le responsabilità, crescono gli impegni ma questo serve anche per ribadire che il Dipartimento di giurisprudenza a livello regionale è presso l'Università di Teramo quindi qualunque attività formativa che riguarda questo ambito non può prescindere dall'Università di Teramo. Mi piacerebbe che questa iniziativa diventasse interatenea, condivisa tra tutti gli atenei della regione perché tutti possono dare un contributo importante. Sindaco Paolini, fondamentale come sempre in queste cose, il lavoro di squadra, a Lanciano ricordiamo c'è già un polo formativo. Sì, noi al suo tempo venne costituito il consorzio universitario, c'erano già dei corsi di laurea in economia e amministrazione dell'impresa, c'è l'ITS, il consorzio universitario esiste tutt'oggi non è solo meccatronica ma anche informatica, il Palazzo degli Studi è intitolato al grande economista Marcello De Cecco e voleva essere un polo di formazione e è un polo di formazione. Purtuttavia i comuni di Chieti e Pescara si mobilitano a difesa della D'Annunzio così sindaci Ferrara e Masci, duplicato un percorso di studi già esistente senza sentire i territori interessati. Ci duole di non aver potuto rappresentare personalmente il punto di vista delle nostre rispettive città che vivono entrambe anche dell'economia prodotta dalla presenza del Comune Ateneo e che di conseguenza subiranno di certo un danno con l'istituzione di un corso da parte di un'altra realtà pur regionale perché la somiglianza degli indirizzi potrebbe comportare una contrazione del numero degli iscritti del SEGI con pregiudizio economico non solo per l'amministrazione universitaria ma anche per i nostri rispettivi territori e l'indotto legato proprio alla presenza degli studenti in quel di Chieti e di Pescara.